su josé dai che famo notte fammi le domande che dopo devo andare a fare la spesa e aspetta sto a pensare è un attore? no è un cantante? no è un personaggio storico? no è un personaggio politico? no è uno sportivo? no ma che cacchio è allora? non è questo non è quello non è quell'altro oh ma che colpa mia se non c'è azzecchi è un personaggio di fantasia? sì oh gliel'amo fatta va è maschio? sì è della disney? no è della wonder brothers? che? la sapete è uomo? no è animale? sì però stai già ai 11 domande su josé hai detto che se ne fanno 10 non ti avevo detto che quando si parla dei personaggi di fantasia sono 11? no eh non te l'ho detto vabbè chi è allora? boh mi butto? silvestro? no e chi era? lupo dei lupis? lupo dei lupis? e chi è? un personaggio dei cartoni animati? ma non lo sei nato a pescare lupo dei lupis? boh mi è venuto in mente perché non va bene? esiste? sì allora va bene lupo dei lupo dei lupi? vabbè tocca a me pensare al personaggio è Gina Lollobrigida? E Gina non l'obbligida Allora Va a fare la spesa paperecchi è meglio Va a fare la spesa Grazie 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 Grazie